Tony Non lo so, sta in politica, c'è le elezioni, si è candidato E appunto, Fernando l'abbiamo avvisato però so che è molto impegnato che ci ha, può darsi pure che ci fa una sorpresa ma è molto impegnato che si è presentato alle elezioni Amici di Napoli qua vedi? E' arrivato uno?